Ecco le entrate in campo, Virtus Castelfrentano, Cupello Calcio per la Coppa Provincia del campionato allievi seconda fase, adesso il direttore di gara, il signor Di Tondo della sezione AIA di Lanciano. Ok andate a salutare la panchina, ok se vi piazzate vi faccio una foto, bello veloce veloce, qua qua su, si si una foto prima, non lo vuoi, alla finale?